Ragazzi, non è che dal laghetto di Stagnola vengono fuori le trote al cartoccio, eh? Non è che siamo qui a bettinar le bambole. Dico questo è poi buono. Noi siamo i soli in condizione di battere la destra. Chi non sostiene il PD fa un regalo a Berlusconi. Ragazzi. Non può essere il centro-destra a tirarci fuori dai guai. Nessuno di noi è mandrake. Non voglio passare per robe spiere per sé giusti. Contro chi combattono. Cosa ha Berlusconi che lei non ha? Sono i cappelli, evidente. Ciao ragazzi.